Adesso parliamo di questa cosa qui, ciao e ben ritrovato nel mio canale, sono Mauro Barbacci, sai sono un fotografo, se non lo sai, lo sai adesso, è qualche tempo che non registro video perché ho tirato le somme dopo quest'anno abbastanza complicato, se non sai guarda i video passati, c'è il link del canale Il Magico Mondo di Melagna, iscriviti e se non lo sai scoprirai cosa mi è successo, a parte quello ho tirato le somme di quest'anno e ho preparato il prossimo anno, perché tanto adesso siamo alle porte di dicembre, c'è il Natale, c'è questo, c'è quell'altro e io devo fare altre cose, non mi interessa il Natale, non mi interessa il mese di dicembre, a me mi interessa quello che farò io in natura in questo periodo. Ecco, tanto per iniziare sono arrivati loro, due rulli, gli ultimi due che ho trovato, dei Fujiprovia 100F, che andranno a lavorare con lei, con la Minolta X700, la mia Minolta X700 che ho revisionato nel frattempo e il bello è che questi rulli che mi sono arrivato scadranno nel giugno del 2024, quindi un ottimo acquisto anche da questo punto di vista, ma soprattutto questi due rulli influiranno molto su questo canale e andranno a riprendere tutto quello che è arte naturale, sì, avevo fermato un po' tutto e andranno a ricominciare arte naturale, quindi adesso, da questa settimana praticamente, ricomincerò con arte naturale e con una serie di contenuti dedicati in questo canale, ti ricordo che c'è il canale di arte naturale che sarà completamente un'altra cosa, saranno documentari, su questo canale metterò i video di quando faccio le uscite, i backstage di arte naturale. Qual è la cosa bella che mi è venuta in mente? Perché non è che esco, se domani vado via faccio un rullo da 36 posi, cioè saremo folle, uno perché costano quasi 30 euro l'uno, più c'è lo sviluppo, la stampa, la scansione e tutto quanto. Due perché io scatto poco, vengo dalla pellicola quindi i scatti sono contati e anche nel digitale non ho mai scattato tantissimo, ho sempre fatto foto ragionate e pensate e questo porta al fatto che per finire un rullo da 36 posi magari me ci possono volere anche 10 barra 12 uscite come anche più perché se esco e non c'ho niente da fotografare non scatto, non è che consumo rullo a uffa né come il digitale che si scatto dopo se mi piace bene se no cancello no, quindi ci sarà una serie di video dedicati a questo separato per stagioni, sì perché ogni stagione è un rullo, né più né meno, ogni stagione è un rullino, adesso ci sono questi fucicrom qui, i propria 100F e dopo se li trovo li farò con quelli se no con Kodak Ektachrom che ho sempre usato e 100 che ho sempre usato in passato quindi ogni rullino ha una stagione, finito il rullo chiuderemo la stagione con lo sviluppo, la scansione e la stampa del rullo, quindi l'ultimo episodio della stagione di questo rullo saranno le foto fatte durante i vari episodi della stagione, ma è venuto a mente così, potrebbe essere una cosa simpatica perché la faremo insieme, ecco, altra cosa, oggi sono arrivati i rulli e è arrivata anche lei, chi segue i post e legge anche gli articoli sul mio blog, c'è il link in bio, saprà che avevo ordinato qualche giorno fa da ebay, questa qui, l'Alfa Clack, eccola qua, una fantastica Alfa Clack, questa è una macchina praticamente è una, cioè, questa è la custodia originale, sembra rifatta, è praticamente tutto nuovo, anche la macchina è completamente nuova, bella perché per fissarla dentro la custodia c'è la vite sotto del treppiede, adesso te la volevo far vedere, eccola qua, cioè, praticamente nuova, non c'ha chissà che chicca, l'unica chicca è forse la maniglia, questa è l'unica cosa, perché adesso te la spiego un attimo al volo, e più che altro perché ho speso 27 euro comprese le spedizioni, nuova, eh, e praticamente sta macchina è né più né meno che un magazzino medio formato, non so se si vede, con davanti una lente, c'è pagata, niente, ah, è 6x9, non c'ha per caricare se gira a mano e se vede dietro dalla finestrella il numero del, il numero della posa, lo scatto, eccolo, c'ha o un trentesimo o la posa B, posso collegarci e ce l'ho e ce lo devo ancora provare perché mi è arrivata proprio adesso, lo scatto, lo scatto remoto è una parolona, il flessibile, forse è meglio il flessibile, ah, va bene quello mio qui, ah, un va bene il flessibile che ho il problema che io non ci vedo più e non vedo quello che sto a combinare, no, un va bene il flessibile mio, un va bene, non ci si avvita, ecco vedete abbiamo scoperto sta cosa insieme, quindi dimostra il fatto che l'ho fatta con voi perché non ci si mette, però sulla mia volta non ci si mette, non mi frega un cazzo, e praticamente questa macchina qui porterà dentro un rullo, che ancora di questa mi deve arrivare, in bianco e nero, ma vi dirò più avanti a cosa servirà questa cosa qui perché è molto particolare, c'è la messa a fuoco da 1 a 3 metri e da 3 metri infinito, semplicemente, e dopo, sì, 3 metri infinito e 1 a 3 metri, e niente, è un trentesimo opposta B, poi, cioè non ci sono tante alternative, non ci sono praticamente quando si cambia la messa a fuoco, semplicemente se cambia l'apertura, non so se si noterà qui dentro, l'apertura del diaframma, la parolona dice dire apertura del diaframma, vedete dentro la lente, passa dal diaframma più piccolo al diaframma più aperto, parliamo di F11 e F16, non è che stiamo a parlare di F28, F5, F16, praticamente cambia semplicemente l'apertura del diaframma per mettere a fuoco più roba o meno roba, è un gingillino interessante, ma più questo, ragazzi sia chiaro, questo è più uno sfizio collegato a una cosa che aumenti, che vedremo andando avanti, andando, vedremo anche se funziona, e qui ci sarà un rullo in bianco e nero, qui ci sarà un rullo in bianco e nero dentro, perché la cosa con mente di fare è in bianco e nero, guarda che bella la borsettina, leggerissima, logicamente, quindi qui metto un rullo in bianco e nero, e c'ho otto pose, mi sembra, mi sembra otto pose, però la cosa importante è lei, è lei la mia minolta con dentro la provia 100, perché qui ripartiremo con arte naturale pesantemente, da questa settimana, vedete che ho cambiato l'inquadratura, mi metti a fuoco per favore, ecco grazie, ho cambiato l'inquadratura, l'ho allargata per averci un po' più di domestichezza, fate vedere una cosa, te la posso far vedere, e tutti i giovedì saremo in live qui, la solita live di un quarto d'ora del giovedì sera alle 21.30, ma sbaglio sempre, da inizio anno torneranno alcune cose particolari e riservate, ridarò l'accesso all'area riservata nel mese di gennaio, e arriveranno alcune cose in anteprima per, su una piattaforma, ma lo vedremo da gennaio, perché può darsi pure che cambi idea, l'importante è quello che ci sarà qui, che sarà tutto il backstage d'arte naturale, ah, cosa non da poco, ho trovato anche, ho fatto un gran cascino, adesso devo modellare questo qui, per finire il diffusore per la macrofotografia, perché? Perché praticamente, che succederà da qui in avanti? Arte naturale, questa più arriverà anche un altro medio formato a pellicola, però l'altro medio formato a pellicola sarà dedicato per qualcosa di arte naturale, e per la fotografia di paesaggio, tutto quello che è macrofotografia sarà fatto con la G9, e in più anche altre cose, tipo se devo fare una panoramica la faccio con la G9, logicamente, però tanta roba passerà a pellicola, voglio tornare alla pellicola, è una cosa che mi mancava, e faremo tanti video dedicati a questo, quindi, poche chiacchiere, stasettimana avrò qui dietro, qui, a Rio Freddo, torno a Rio Freddo, che non torno a Rio Freddo è più di un anno, ma più di un anno, molto più di un anno che torno a Rio Freddo, dovrebbe essere, se non mi ricordo male, da settembre del 2021, però c'è stato quello che c'è stato, un mezzo, quindi sarò contento di tornare a Rio Freddo, e ci torneremo insieme, qui sul canale, quindi ragazzi, scusate se per un po' sono stato assente, ma dovevo rimetto a posto quello che è la mia vita, infatti arriveranno anche dei video da qui dentro, dove parlo di tempo, non meteorologia di tempo, l'uso del tempo e altre cose, però soprattutto arriveranno i video dalla natura, quindi adesso basta, in descrizione ci sono tutti i link, il link al mio sito, il link al canale Telegram, a Instagram, al podcast, a tutto ragazzi, c'è il canale YouTube da Arte Naturale, intanto iscrivetevi, canale Magico Mondo de Melania, molto importante, quindi trovate tutti i link in descrizione, è inutile che vi chiacchiero, dobbiamo fare, domani io esco, ciao e grazie per essere stati qui, ciao e grazie per essere stati qui, grazie per essere stati qui,